salve a tutti oggi vi presento lampo lo sgrassatore totalmente eco bio ideale per pulire velocemente le superfici incrostate dei nostri piani di cottura è costituito solo da tre semplici ingredienti 80 per cento di idrolato di eucalipto 16 per cento di alcol etilico alimentare a 95 gradi 4 per cento di olio essenziale di eucalipto possiamo anche usare semplice acqua distillata in un rapporto al 70 per cento alcol al 23 per cento ed olio essenziale di eucalipto al 7 per cento semplicissimo da fare qui abbiamo i quantitativi già proporzionati degli ingredienti per formulare lo sgrassatore aggiungiamo per prima cosa l'olio essenziale di eucalipto all'alcol questo procedimento è fondamentale in quanto l'olio essenziale essendo insolubile in acqua ma solubile in alcol consentirà la formazione di una miscela agitiamo accuratamente ed aggiungiamo poi questa miscela all'idrolato mentre aggiungiamo la miscela di alcol ed olio essenziale all'idrolato noteremo che la soluzione si opacizzerà il che conferma che la soluzione acquosa costituita dall'idrolato accoglie la soluzione alcolica precedentemente formulata misceliamo affinché avremo una colorazione uniforme ora inseriamo tutto in uno spruzzatore nuovo o meglio ancora riciclato e lampo sarà pronto all'uso prima dell'utilizzo dello sgrassatore è sempre necessario agitare il flacone in modo da miscelare eventuali separazioni dei liquidi inseriamo lo spruzzatore al flacone ed avvitiamo scusatemi ma sto trovando difficoltà a fare tutto con una mano perché sto facendo una ripresa da solo vediamo come si utilizza in questo piano di cottura abbiamo la presenza di macchie di caffè di sugo olio ed altro sporco particolarmente resistente ad essere rimosso anche perché con il calore dei fornelli queste macchie si seccano resistendo a volte anche alla superficie abrasiva di una spugna basta spruzzarlo in modo uniforme sulla superficie da pulire in questo caso un piano di cottura ed attendere circa tre minuti durante la ripresa cercherò sempre di inquadrare il piano di cottura in modo da assicurare l'autenticità del video e dell'uso esclusivo di questo sgrassatore eco bio mentre lamp agisce ricordo che l'azione pulente sgrassante è dovuta principalmente all'estratto di eucalipto e soprattutto all'olio essenziale basandosi sul principio che simile scioglie simile infatti l'olio essenziale contenendo un mix di idrocarburi tra cui alcoli aldeidi e chetoni riesce a reagire e sciogliere velocemente le sostanze liposolubili ossia oli e grassi potremo personalizzare questo sgrassatore sostituendo l'idrolato di eucalipto con altri che abbiamo a disposizione come lavanda cipresso rosmarino alloro donando al lampo una profumazione mista tra eucalipto e l'acqua aromatica utilizzata l'acqua aromatica può essere sostituita da un idrosol che possiamo fare da soli in casa con una caffettiera modificata ricordo che comunque in caso non abbiamo l'idrolato o di idrosol possiamo anche usare semplice acqua distillata in un rapporto al 70 per cento alcol al 23 per cento e d'olio essenziale di eucalipto al 7 per cento questo sgrassatore è ideale anche per i forni sia a microonde che tradizionali infatti oltre che a pulire e sgrassare velocemente le superfici togli cattivi odori di cottura anche quelli più persistenti lasciando una gradevole profumazione con lampo possiamo pulire tutte le superfici in acciaio è sconsigliato comunque utilizzarlo per le superfici plastificate come le tovaglie od oggetti in pvc ed è inoltre da evitare il suo utilizzo sui mobili anche se sono trattati per pulire il piano di cottura utilizzeremo una semplice spugna in poliestere prima di procedere alla pulizia possiamo vedere come le macchie si sono sciolte anche quelle particolarmente resistenti come caffè e sugo ricordo che anche se questo sgrassatore è totalmente costituito da prodotti naturali è sempre bene tenerlo lontano dalla portata dei bambini che potrebbero ingerirlo l'ipotetico pericolo deriva dalla presenza nell'olio essenziale di molecole monoterpeniche relativamente tossiche per ingestione in questo primo passaggio a dimostrazione dell'efficacia di questo sgrassatore utilizzerò la spugna senza esercitare nessuna pressione notate come la spugna ha raccolto lo sporco disciolto facciamo una seconda passata questa volta esercito una leggera pressione e come possiamo vedere la spugna raccoglie tutto lo sporco che oramai si è completamente disciolto l'ampo ha agito con estrema efficacia in soli tre minuti in caso di sporco particolarmente resistente applicheremo una seconda passata di sgrassatore e lasceremo agire per altri tre minuti pulendo poi la superficie con la parte morbida della spugna anche le macchie di caffè vengono velocemente disciolte e rimosse con facilità non occorre più agire energicamente o utilizzare la parte abrasiva della spugna per pulire il nostro piano di cottura con questo sgrassatore abbiamo un amico in casa un amico completamente naturale e biologico semplicissimo da fare non utilizziamo mai su sorgenti calde o fiamme in quanto i vapori del prodotto sono infiammabili dopo la pulizia dei forni tradizionali da microonde occorre far bene asciugare l'elettrodotto